L'amministrazione comunale di Agrigento interviene nel merito del montaggio della tenda allo slancio della comunità missionaria Porta Aperta. La Giunta Firetto condivide l'atto di indirizzo appena presentato e firmato dai consiglieri comunali Alfano, Battaglia, Bruccoleri, Catalano, Carlisi, Fantauzzo, Graceffa, Licata, Monella, Sollano e Vitellaro, che impegna l'amministrazione a reperire uno spazio in zona centro città che sia ben illuminato, accessibile e sorvegliabile per consentire l'installazione della tenda allo slancio in ragione delle attività benefiche e di integrazione sostenute dalla stessa comunità. La Giunta Firetto sottolinea però che ogni insediamento mobile è soggetto al rispetto delle regole consigliarie e dell'occupazione del suolo pubblico comunale, dalle bancarelle di San Calogero alle tende evangeliche, e che ogni insediamento mobile ha per sua stessa essenza il carattere della temporaneità dell'insediamento, che non potrà essere dunque stanziale e perenne. E adesso ascoltiamo lo stesso consigliere comunale, Gioacchino Alfano. Noi abbiamo preso spunto da quello che era stato l'atto di indirizzo presentato dal collega Spataro, un atto di indirizzo che mi preme sottolineare non è stato votato per una insensibilità del Consiglio Comunale nei confronti delle problematiche avanzate o per non risolvere il problema dell'installazione della tenda allo slancio, ma perché di fatto c'erano dei problemi tecnici che erano stati sollevati allo stesso Avvocato del Comune, Toninzalaco, che facendo riferimento a una vecchia congestione che era stata fatta alle ferrovie dello Stato nel 1937, impediva tale possibilità. Noi non ci siamo fatti assolutamente sordi a quella che era l'esigenza di andare incontro alla tenda allo slancio, oltretutto perché siamo convinti delle bontà del servizio che fanno per l'integrazione sociale, un'attività di supporto anche agli anziani. Quindi abbiamo, facendo anche leva, fatto leva su quella che è la possibilità che ci dà lo stesso regolamento del Consiglio Comunale, presentato un atto di indirizzo a firma di circa 12 consiglieri comunali che erano rimasti presenti in aula, e è stato votato all'unanimità dei presenti un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione comunale a individuare un luogo che sia centrale, facilmente accessibile e ben illuminato per consentire alle suole di poter installare la tenda allo slancio. Cos'è che mi preme sottolineare ulteriormente? Come previsto dallo stesso regolamento, tutti questi tipi di installazioni devono avere comunque il carattere della temporaneità, quindi non possono avere periodi lunghi o indeterminati. E appunto uno di questi è i motivi per cui la convenzione alla quale faceva riferimento su Orpellitteri di giugno dell'anno scorso non era stata poi alla fine che non aveva avuto buon fine. Infatti la temporaneità, quindi in garatti circa tre mesi, che era stata proposta dalle sorelle le chiedevano un periodo ben più lungo. Ricordiamoci che il Comune si deve fare portavoggio degli interessi sociali di tutti i gruppi, quindi senza fare riferimento al clero o ai gruppi sociali. Quindi dare una staticità a una tenda impedirebbe anche di far fronte a quelle che sono le esigenze degli altri richiedenti.